non fa la brutta figura che ti sto filmando dai è bello vedere così perfetto gira piano di qua senza dargli su uuuh non stallarlo metà motore neanche ah sta fermo eh però va che vento va 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 ho schiacciato un cosmetto che rumori di aereo oh vogliamo vedere un atterraggio altrettanto spettacolare non sui nostri aerei adesso ti provo prova a tornare indietro qua sull'erba alta se vuoi oh di qua però eh guarda che precisione perfetto lascialo andare vai ah 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 nettacolo troppo bello ciao 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 ciao